Dai Cristian, dai Cristian, qui andiamo in alto, all'esperienza gli altri anni in cui si va in alto, dai, dai Cristian, dai, 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 serve forza, serve coordinazione, tutti i muscoli devono muoversi all'unito per riuscire ad arrivare in cima. Dai Cristian, sono sette e mancano due, dai Cristian, dai Cristian, e sono otto, dai Cristian, dai, ci sei, ci sei, ci sei, ci sei quasi, ci sei, ci sei, dai, 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 c'è Cristian, nove metri. Dai, il primo concorrente, ad arrivare in cima, diamo anche il tempo.